Sottoscritta la convenzione tra Regione Abruzzo e Parco Nazionale Abruzzo-Lazio-Molise per l'accertamento e il risarcimento dei danni causati dagli orsi alle culture e al patrimonio zootecnico nel territorio limitrofo al parco, una collaborazione sottoscritta a Civita D'Antino che mira a snellire e velocizzare le procedure per il risarcimento dei danni. È una convenzione che stabilisce in mano al Parco Nazionale d'Abruzzo di verificare anche al di fuori dei propri confini su 16 comuni dove si verificano la presenza dell'orso anche occasionale e quindi uniformare quello che è l'atteggiamento, il comportamento, la metodologia che ha il parco anche a questi altri comuni. Noi mettiamo a disposizione i soldi e il parco con la propria struttura fa la verifica e paga per conto della Regione. Noi andiamo più che altro sul sistema, diciamo così, lo definirei obbistico comunque di non attività prevalente perché questa è l'attività che la legge stabilisce. Sull'altro invece che sono le attività agricole imprenditoriali vere e proprie la procedura è diversa e paga direttamente la Regione. La differenza qual è rispetto agli anni passati? Che ci sono, a differenza degli anni passati, un capitolo specifico per i danni, diciamo così, generati da fauna protetta in generale. Il parco ha un'esigenza, quella di stabilire rete con tutti i soggetti istituzionali che operano nel territorio. Secondo, il parco ha esigenza di guardare allo sviluppo sostenibile in tutte le sue componenti, che sono quelle certamente della conservazione, del patrimonio naturale esistente, ma anche di garantire lo sviluppo sostenibile dal punto di vista economico e sociale. Noi con questa intesa che oggi sottoscriviamo siamo esattamente in questo percorso perché ci siamo resi disponibili nel quadro di leale collaborazione istituzionale con la Regione dell'accelerare delle procedure, dell'agevolare delle procedure, del rendere più facili delle procedure che quindi possono concorrere a migliorare il senso di accettazione verso il parco.